E tra qualche istante partiranno... Eccoli qua! Monister, Capesaro, Whipperwich, Elettrippopi, Democrito, Strikeforce, Faskodiak all'inizio della curva. Prosegue in vantaggio Tacma davanti a Monister, Capesaro, Elettrippopi, Democrito, Whipperwich, San Aurora, Faskodiak, Strikeforce e Spidango. Poco prima dell'ingresso in vantaggio Tacma davanti a Monister, Capesaro e San Aurora. I cavalli entrano in vantaggio con Tacma in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Monister, San Aurora, Centropista, Faskodiak, Capesaro, Perlini interne, Democrito, Whipperwich. Passa San Aurora davanti a Tacma, Monister, Democrito e Capesaro in vantaggio, San Aurora davanti a Capesaro, Monister passa, Capesaro davanti a San Aurora, Monister e Democrito. Era una corsa formidabile, indecifrabile, Capesaro ancora una volta, puntualissimo Maurizio Pasquale per il training di Marco Oppo, che bella difesa però tutti gli altri, a cominciare da San Aurora e poi dallo stesso Monister che se l'è giocata. Fino in fondo è Democrito che arriva ad un passo dei primi tre. Bella corsa Rolando!